Buongiorno a tutti, oggi facciamo una montagna piuttosto affascinante, anche se non molto alta, che si trova dalle parti del paese di San Vittore, vicino all'abbazia di Monte Cassino, nella provincia di Profinone, nel Lazio, si chiama Monte San Bucaro, è un monte piuttosto panoramico, che offre un ottimo panorama sulle marinarde, a parte l'appennino. Andate, andate! Buongiorno! Buongiorno! Non li vedi i pesci tropicali che si guattano? Sì! Oh, scusate! Marco, puoi riprendere? Buongiorno! 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 è un toro ma c'è l'acqua non c'era adesso? no, una volta c'era si ma con questo tempo l'acqua è completamente asciuta mi piove più dalla vita ecco facciamo l'ultimo tratto di cresta che è quello più interessante del monte Sambucaro c'è il monte Cairo qua davanti l'ambazio di Monte Cassino non c'è l'espぞ non è l'esposizione non è l'espismo mia l'esposizione non è l'esposizione non è l'esposizione bella la storia Grazie a tutti Ecco manca l'ultimo strappetto E' un po' di Sambucaro Grazie a tutti Ma tu me conosci bene? Tante cose diresti che mi diresti ma com'è possibile? No però dico oggi se non hai caldo per esempio No Oh stanta pace No va freddo Oh mamma mia Eh valgo due A considera che io mi fermo vedi faccio foto filmati Mi chiamato veloce come andate voi Poi c'è un passo molto più svelto Di conseguenza il calore del corpo aumenta Capito come? Cioè C'è il miglio L'hai detto Fabrice? C'è il miglio Grazie a tutti 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 Conclusione del video Grazie a tutti